Go-Kart, questo è il nome della maxi-operazione effettuata nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Enna che hanno arrestato 51 persone affiliate alle famiglie mafiosi di Cosa Nostra e del clan Cappello che operavano nei territori al confine tra la provincia di Enna e la provincia di Catania, in particolare a Catena Nuova, Regalbuto e Centuripe. Le indagini sono andate in porto grazie alla professionalità delle forze dell'ordine che si sono avvalse anche di importanti dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Antonino Mavica e Salvatore Di Giovanni. Si è riuscita a mettere in evidenza la profonda differenza tra gli interessi criminali della vecchia famiglia di Cosa Nostra e quelli della nuova organizzazione criminale di Catena Nuova legata al clan Cappello. Cosa Nostra si assicurava i proventi illeciti provenienti da attività estorsive mentre gli esponenti del clan Cappello avevano il monopolio degli stupefacenti avvalendosi tra l'altro di squadre specificatamente organizzate. Sono stati dunque sequestrati nel corso dell'operazione numerosi quantitativi di marijuana e skank, una variante della cannabis, con effetti allucinogeni, ma anche armi e molte munizioni. Con quest'operazione, denominata Go-Kart proprio perché il centro direzionale del traffico di stupefacenti a Catena Nuova si svolgeva nei pressi di una pista di Go-Kart, è stato possibile delineare l'organico del clan Cappello e il quadro di soggetti inseriti nella famiglia di Cosa Nostra sin dagli anni 90. Grazie! 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 Grazie!